Il personale della squadra mobile dell'Aquila ha denunciato per rapina un cittadino albanese di 26 anni residente all'Aquila per essersi appropriato con violenza del telefono cellulare di un giovane studente. Tutto è iniziato nell'ottobre del 2014 quando ad uno studente che si stava recando a scuola è stato preso con violenza il telefono cellulare da un giovane albanese. Il giorno successivo il ragazzo insieme al padre tramite un altro ragazzo albanese è stato messo in contatto con l'autore della rapina per la restituzione del telefono. Dopo qualche tempo però lo studente è stato avvicinato dallo stesso mediatore che con fare minaccioso pretendeva del denaro per essersi prodigato nel fargli recuperare il telefono. Alla risposta negativa l'albanese ha sottratto nuovamente il telefono al giovane chiedendogli la somma di 300 euro per il riscatto del telefono. A suo dire lo stesso importo che aveva dovuto versare per poter far riavere il telefono al ragazzo. Nel corso di un incontro tra l'albanese e il padre del ragazzo per pagare il riscatto del telefono la posta è stata nuovamente aumentata. L'albanese ha infatti chiesto il doppio della somma per restituire il telefono. Alla risposta negativa da parte del genitore il giovane albanese ha minacciato di far del male a lui e al figlio. La conclusione di questa triste vicenda è stata la denuncia alla polizia dell'Aquila che con l'aiuto delle vittime è intervenuta e ha fermato il giovane denunciandolo per il reato di rapina. I graffitari sono tornati a colpire le nicchie di San Bernardino. Pensate che furono restaurate nel maggio del 2011 e ripulite grazie a delle donazioni private. Anche in quell'occasione dopo pochi giorni cominciarono a comparire delle scritte che determinarono una grande indignazione presso la popolazione anche perché era una riconquista simbolica di un luogo dopo il terremoto. Oggi è accaduta la stessa cosa. Questa scalinata è stata ripulita e questa invece è la situazione che troviamo oggi. Il tenore delle frasi e delle scritte è sempre lo stesso. C'è però una differenza nel maggio del 2011 sull'onda dell'indignazione. Scattò un'indagine della polizia che portò alla denuncia di un ragazzo di una frazione dell'Aquila. Oggi invece pare che tutto taccia e che ci sia una sostanziale indifferenza sulla triste sorte di questa scalinata. Ma ormai forse l'ha segnata, non sento più niente, non sento più la mentele, quindi se l'ho segnata. Non è un'immagine gratificante per l'Aquila. Chiaramente va fatta molta prevenzione. Già appena fatta la scalinata i ragazzi in libertà fecero le scritte. Noi denunciamo come cittadino la presenza di una telecamera che da subito dopo il terremoto, appena venisse l'imbarcatura del lato di Amicis, fu posizionata là ma purtroppo non è andata mai in funzione. Quello poteva essere un bellissimo deterrente per vedere chi faceva questo vandalismo sulla scalinata di San Bernardino. Che pensiero le viene vedendo tutte queste scritte su un monumento storico, le nicchie della scalinata di San Bernardino? È duplice. Da un punto di vista penso che l'amore è forte e per cui le pulsioni a significarlo sono altrettanto forti. Poi d'altra parte invece ci vorrebbe un po' di intelligenza capire che un'opera d'arte va rispettata. Ci sono occasioni, modi e anche luoghi dove poter fare la cosa del genere. Lì non mi sembra appropriato. Da una parte il comune dell'Aquila taglia le utenze ai condomini morosi degli appartamenti possismici del progetto case. Dall'altra però è esso stesso ad essere moroso perché non sta pagando le rate mensili della transazione con la banca sistema istruita per rientrare dal debito maturato con ELEL a seguito del mancato pagamento proprio dell'utenza del progetto case. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Noi con Salvini, Emanuele Imprudente, Luigi Deramo e Daniele Ferella che chiedono la convocazione urgente della Commissione Consigliare Programmazione e Bilancio per far luce su una vicenda spiegano che potrebbe avere risvolti devastanti nei confronti dei conti economici già trapallanti del comune e del patrimonio comunale. Ho fatto una richiesta urgentissima di prima commissione consigliare quella programmazione e bilancio e ho sentito anche del Presidente Giustino Masciocco che si è impegnato a convocarla all'inizio della prossima settimana. Sarebbe veramente grave se l'amministrazione ha bloccato questi pagamenti perché ci sarebbero delle conseguenze veramente devastanti. Quali sarebbero le conseguenze contabili? Innanzitutto ci sarebbero nuovi debiti fuori bilancio. C'è la possibilità che Banca Sistema, proprio perché è stata una forma di accordo scellerato, potrebbe richiedere l'intera somma immediatamente. C'è poi dall'altro lato un depaperamento del patrimonio dei progetti case che sappiamo benissimo tutti quanti perché non si fanno interventi di manutenzione vera o di sistemazione vera e quindi è una vicenda questa dei progetti case che come avevamo anticipato ormai da anni e come stiamo dicendo tutti i giorni da anni è una vicenda che potrebbe portare al dissesto dell'amministrazione. Un parco pubblico che diventa una palestra di talenti in erba e di futura cittadinanza attiva. Accade a Murata Gigotti a Coppito, frazione del Comune dell'Aquila dove gli studenti dell'indirizzo agrario di quello per geometri dell'Istituto Da Vinci Colecchi hanno messo in pratica quanto imparato a scuola con la realizzazione di un percorso naturalistico studiando e censendo il patrimonio floristico e arboreo e realizzando una serie di rilievi topografici su tutta l'area del parco ai fini di una sua futura ed ulteriore valorizzazione ad esempio grazie alla realizzazione di uno spazio adibito a concerti e spettacoli di un edificio scolastico al posto della struttura provvisoria post-sismica e di parcheggi. Fattori dell'iniziativa assieme all'Istituto Da Vinci Colecchi il Collegio Provinciale dei Geometri da Proloco di Coppito il Comune dell'Aquila. In conferenza stampa è stata poi ribadita la necessità del rifacimento delle mura settecentesche fortemente danneggiate dal terremoto. L'indagine ha messo in rilievo una serie di peculiarità vegetazionali che ne fanno di quest'area un'area di particolare pregio e per quello che riguarda invece l'aspetto più strettamente legato all'attività dei geometri ha messo in risalto come gli alunni della scuola siano desiderosi di imparare tutte le tecniche di rilievo che servono per la fase di progettazione e per la realizzazione delle opere del parco. Quali opere? In particolare si partirà con la realizzazione della cinta muraria e poi tutta una serie di interventi che fermo restando il rispetto delle peculiarità del parco perché l'area è sottoposta a un vincolo paesaggistico sono volte a creare un'area fruibile diciamo dalla popolazione quindi spettacoli di carattere musicale teatrale attività ludico-ricreative Le mamme aquilane con i bambini festeggiano il carnevale in piazza come ogni anno all'Aquila domenica 7 febbraio un evento organizzato dall'associazione Mamme per l'Aquila impegnate ormai in prima linea nella realizzazione di tanti eventi per i più piccoli e non il carnevale è un evento molto divertente per tutti i bambini ma in special modo per i bambini aquilani scrive l'associazione in una nota desideriamo che diventi un appuntamento di tutti gli anni vedere la piazza piena di gente riempie il cuore di tutti gli aquilani esperimento questo riuscito negli anni scorsi una festa quella in piazza Duomo domenica che avrà inizio alle 10 e si prolungherà sino alle 13.30 con animazione, esibizione di mascotte e personaggi delle fiabe lo scorso anno nonostante il tempo fosse stato ostile la piazza era piena di maschere di ogni genere sono stati lanciati migliaia di migliaia decorando le stelle filanti dice l'associazione i bambini hanno potuto vivere ciò che hanno vissuto i loro genitori quando erano piccoli e quando l'aquila era viva siamo sempre più convinte scrivono le mamme che la collaborazione sia l'unico mezzo per poter ricostruire il tessuto sociale che pian piano si sta rigenerando all'aquila il popolo aquilano non ha bisogno di vivere di ricordi passati ma di eventi presenti e futuri domenica 7 febbraio carnevale anche a Murata Gigotti a Coppito ecco raccontiamo in anteprima questa giornata bella e piacevole beh sì noi abbiamo sempre partecipato come prologo anzi abbiamo organizzato insieme ad altre associazioni il carnevale all'aquila poi che abbiamo interrotto due anni fa con i salesiani e con altre associazioni con cui operiamo anche per i campi estivi per i centri estivi dei bambini quest'anno proponiamo il carnevale a Murata Gigotti a Coppito quindi appuntamento in piazza Rustici alle 3 e mezzo quindi 15 e 30 ci sarà una sfilata in maschera per il paese tempo permettendo speriamo che ci sia un po' di sole con un gruppo musicale una band il Cresi Stomping Club che ci accompagnerà in questa sfilata e poi festa al tendone di Murata Gigotti Grazie a tutti